Dopo tre anni da capogruppo del Movimento 5 Stelle, il consigliere comunale Michele Doro annuncia le sue dimissioni. Dopo aver svolto il suo ruolo con impegno e nel rispetto dei suoi colleghi, ha deciso di lasciare il ruolo ad altri consiglieri che prenderanno il suo posto. Il suo lavoro continuerà nel sostegno dell'amministrazione comunale, come ha sempre fatto. Il gruppo consigliare è stato informato delle sue intenzioni e presto si saprà il nome del suo successore ed è lì che si formalizzeranno le sue dimissioni. Io sono stato nominato capogruppo del Movimento 5 Stelle nel novembre del 2019, quindi quasi tre anni fa. Solitamente noi ruotiamo il capogruppo ogni sei mesi, ogni anno e quindi era un po' anomala la mia permanenza in questo ruolo. Lo sono stato finora perché il gruppo mi ha sempre dato fiducia, mi ha sempre chiesto di continuare. Ringrazio quindi tutti i colleghi che finora mi hanno dato fiducia e auguro al mio successore di svolgere il ruolo in maniera migliore di quanto non l'abbia potuto fare io. Sarò sempre a fianco dell'amministrazione, sosterrò le azioni del Movimento perché questo vuole la città, che si realizzi il programma con il quale ci siamo presentati e questa è una promessa che abbiamo fatto, intendiamo mantenerla sino alla fine. Quindi auguri al successore, al gruppo e all'amministrazione attiva.